accidenti purtroppo oggi piove allora mario cosa facciamo oggi oggi purtroppo abbiamo sospeso tutto a data destinarsi causa mal tempo vedremo speriamo prossime domeniche il tempo ci permetta di fare questa bella manifestazione abbiamo sempre avuto dei buoni risultati buoni partecipanti speriamo in bene comunque abbiamo messo un cartellone fuori e vediamo cosa ok va bene adesso mi spiace comunque verrà rifatto va bene sarà per la prossima purtroppo quindi oggi piove e quindi verrà rinviata indicativamente fra fra cui io penso 15 giorni buongiorno 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 e va bene fra un 15 giorni allora dai vabbè si fa forza tempo così e poi voglio dire poi c'è una cosa competitiva dici ma a livello amatoriale non ne vale la pena magari che si fa male qualcuno per il bello di queste cose qui è la festa non è la gara in sé ok ok oggi oggi piove è appunto anche in piazza anche in piazza le bancarelle e tutto è eh sì è vero perché poi quando se la farei una volta perché c'è un accordo da fare ci si mette il tempo per mettere a mettere a fare ciò che si mette il tempo che se la farei una volta che si mette il tempo Ok Grazie 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 Grazie